Chiusura della discarica di podere rota da formalizzare entro l'anno 2021 con l'avvio a fianco di un monitoraggio sulle condizioni di salute dei residenti delle zone vicine all'impianto. Sono le due richieste lanciate dalla Comitato Vittime di Podere Rota e adesso approderanno il Consiglio Comunale a Montevarchi all'interno di un ordine del giorno che sarà presentato direttamente dalla Sindaco Silvia Chiassai Martini nella prossima seduta in programma giovedì 26 ottobre. L'atto è per dimostrare concretamente l'impegno preso con i rappresentanti del Comitato e dopo la mia partecipazione alla manifestazione dello scorso 7 ottobre, dice Chiassai, resto convinta che gli amministratori dei comuni valdarnesi non possano proseguire a fare finta di nulla di fronte alla questione rifiuti e dalla definizione di soluzioni alternative alla presenza di una discarica sul territorio. Le criticità accumulate soprattutto in questo anno, dice il Sindaco, sul sistema di smaltimento rifiuti sulle inefficienze e sul commissariamento della gestore unico non possono interessare o rimanere circoscritti a due comuni della comprensorio e ad una porzione di territorio. Con l'ordine del giorno Silvia Chiassai chiede il mandato dalla Consiglio Comunale Montevarchino per assumere le iniziative più opportune affinché la Regione Toscana formalizzi la data della chiusura della discarica nel 2021 con il conseguente avvio delle procedure post mortem e di asseguito in accordo alla ASL al monitoraggio sullo stato di salute della popolazione che vive in prossimità. È necessario che il documento venga poi trasmesso all'assessore regionale e dai consiglieri regionali della provincia di Arezzo per presentare in tempi utili una proposta di modifica alla piano regionale dei rifiuti che indichi la chiusura di Podere Rota entro e non oltre il 31 dicembre della 2021.